Sì, 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 senza spremere troppo, basta che mi spommi solo la crema che mi scalda. Sì, stai facendo il bravo o no? Il maestro, stai facendo il bravo, lo dite lei, lei è il maestro. No, io non c'entro niente, le ti chiedo per te, viva. È fatto il bravo lì, bravo lì. Quello che prendo in giro, c'è un pezzo di sconcio d'occhio, serve apposta. fare l'immagine quadrata 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 fate Mario venite a vedere allora portate i cormetti a vedere il mio Mario come di che me ce lo sei c'ho ragione io me la sono fatto più ricetto grazie Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 e... a tutti. 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 a tutti.